Grazie a tutti. Guarda come vibra le ali. Vorrebbe spiccare il volo, lo vedi? Lo vedi come fa? Guarda con le ali. Madonna, il falco è proprio qualcosa di eccezionale. Animale intelligente. Non a caso carnivoro, esclusivamente carnivoro. Mangia questa salsiccia, falco. Vinciti a questo tiro? Vinciti a questo tiro? Vinciti? No, tu sai niente? No, so che ha scritto dei libri. Mi ha richiamato per delle lezioni, le cose non stanno così. Ma lui ormai decide al nord, no? Sì, ma poi si è bruciato con tutto. Si è venduto con tutto. Cioè alla fine la gente ha capito che era quello che era. Vabbè, dopo parleremo di alcune cose, cari amici. In questo ambiente faremo una rassegna stampa e diremo alcune cosette in relazione agli tuoi avvenimenti, ok? Guarda come vibra, proprio... E' lui che fischia l'altro? No, è lui. Penso sia un pappagallo, non ha ancora capito Giorgio che è un falco. Questo è un falco, non è un pappagallo. Non è un pappagallo, eh. Non è un pappagallo, non è un pappagallo, non è un pappagallo.